Eccoci qua ben ritrovati, inizia la prima settimana a tutti gli effetti primaverile perché avremo l'equinozio di primavera il 20, quindi nel corso della settimana però di fatto inizierà invece una settimana invernale se volevate la primavera troverete l'inverno troveremo l'inverno con un po' di precipitazioni soprattutto al mattino sulla Liguria, sulla Lombardia nel pomeriggio avremo dei rovesci, nemosi, su zone alpine, occidentali, zone prealpine e quota neve che tenderà a calare sin verso i 500-600 metri però comunque non sono previsti grandi fenomeni su zone pianeggianti tutt'altro, come detto, le precipitazioni maggiori si avranno molto più a est tra la Lombardia e poi il nord-est, l'Emilia-Romagna soprattutto vediamo le temperature minime che caleranno anche le massime, beh, in lievissima flessione ma comunque le temperature si attesteranno attorno ai 7, 8, 9 gradi è tutto cari amici, quindi come detto prepariamoci a vivere una settimana tutt'altro che primaverile, anzi a tutti gli effetti una settimana piuttosto fredda, freddina e invernale arrivederci